Il dopo-repegia si chiama Maurizio Buscaglia. È arrivata l'ufficialità sull'ingaggio del 54enne tecnico barese che arriva alla Carpegna Prosciutto Basket Pesaro con contratto biennale e opzione su un terzo anno. Buscaglia arriva a Pesaro reduce dall'esperienza in Israele dove ha centrato l'obiettivo salvezza dell'Apoel Eliat, la seconda di due esperienze in terra israeliana inframezzate dal ritorno in patria amaro con l'esonero di Napoli. Ora Buscaglia torna in Italia per sedere sulla panchina di Pesaro con l'AVL che centra un vecchio pallino di Ario Costa. Il presidente punta sull'area dell'Adriatico per ritrovare il Buscaglia deluxe visto a Trento dove fra il 2014 e il 2018 centra il premio personale di miglior allenatore del campionato e sfiorò due volte il bersaglio grosso dello Scudetto perso prima in finale con Venezia e poi con Milano. Esperienze estere anche con la nazionale olandese, esperienze in patria che non sono poi state ugualmente fortunate con Reggio Emilia, Brescia e la stessa Napoli. Proprio a Brescia Buscaglia lavorò con l'assistant coach pesarese Giacomo Baioni, una coppia pronta a riformarsi alla VL.